Sì, c'è lì! Ahahahah! Ciao! Allora, facciamo una piccola intervista, vediamo... Allora, iniziamo da qua. Secondo te è maschietto o è minuto? Maschietto. Per te? Femmina. Femmina. Per te? Maschietto. Maschietto. Femmina. Certo, per te? Femmina, certo, per te? Maschietto. Maschietto. Confermo maschietto. La nonno. La nonno, eccolo qua. La nonno è minuto. Per te a prescindere? Non penso né che sia maschio né che sia femmina. C'è qualcuno sicuro, eh? Eh sì, ma... Per te? Non si può dire. Dai, 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 dai. Perché? Perché lo sai già. Ma tu vorresti? No, lo posso dire. Tu? Femmina. Tu? Maschietto. Chietti, secondo te? Preferisce la femminenza. Una per femminenza. I genitori quali sono? Ecco i qua. Allora, secondo... Spero che voi non lo sappiate, se no facciamo un buco nell'acqua. Per te? Che carini. Il papà vuole il maschio e la mamma vuole la femminuzza. Allora. Sulle mani accompagniamo, forza! Sulle mani. Masciniamo le nostre mani. E non t'alzano le covane, ma da fuori vai. E vediamo. Si dai forti anche noi, non piacciono insieme a lui che si chiede. Fuori e un ciao. Sulle mani, sulle, 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 sulle. Lei, lei, questa volta insieme a lui. Allora, lui, lui, con le mani a tutto il tuo. Sulle mani! Oh oh oh. Ciao e tu. Ciao, ciao, ciao. Fai un giro insieme a lei. Lei, lei, questa volta insieme a lui. Lui, 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 con le mani a tutto il tuo. Oh oh oh. Mi auguro il cuore e vola già. Shalalala, con le mani se lo vuoi. Shalalala, con le mani a tutto il tuo. Shalalala, con le mani a tutto il tuo. Shalalala, con le mani a tutto il tuo. Ciao, ciao, ciao. Mai un giro insieme a lei, 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 questa volta insieme a noi. Lui, 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 con le mani a tutto il tuo. Su le mani, forza! Su le mani, al giochino della nostra sedia. Su le mani, oscilliamo le nostre mani. Forza con le mani. I genitori sono molto felici, bene, no? Aspettiamo questa felicità. Ormai siamo pronti, posso sapere. Anzi cresci, non vorrei dire. Che succede? Luca. Ciao, ciao, Luca. Ciao, Luca. Ciao, 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 Luca. Chi non ti ha eliminato? Forza con le mani su! Forza, forza, forza. Vogliamo venire la posta con le mani. Ma comunque non sentire che la sedia. Forza con i genitori sono molto felicità. Ops. La signora, mi sa che ti divenza al salito. Ciao, ciao. Di genitori, pure tu. Occhio dove vanno le signore, eh. Io non lo so, di genitori. Eppure tu dimenti più spigliato. Capire che la mamma deve uscire. E ora vediamo... Su le mani! Oh! Oh! Un movimento atopico! Capiamo! non c'è un disco che sesso ha qui noi prezzi A presto, a presto, a presto, a presto, a presto! una cassa in voce ma vedete Doppi con scrive l'arico ma io voglio andare su 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 Il C L perché la donna, la femmina è stata eliminata, ciao ciao, quindi è maschietto! Applausi e auguri ai genitori! Ovviamente la pia è in consola, ho vogliato con un frutico secco, ce l'abbiamo tutti davanti noi! No, amici! Applausi! E questo è un po' di vero cuore da tutta la staffa del cuoco divino e tanta felicità! E ripoco più di una signorina, la prima volta che i miei occhi hanno incontrato i tuoi ed è stato amore, un amore tra sei nipote, tra amiche ci sono sempre stata, ti ho sempre tieso la mano e ti prometto che per voi ci sarò sempre, perché il bene non si compra. O c'è o niente, sei una ragazza speciale, tra noi non servono parole, sei molto bene, cosa ci lega, sei bella fuori e bella dentro, sei solare, sei intelligente, sei matura e soprattutto sei piena di valori. E qui un grazie va ai tuoi fantastici genitori, ma soprattutto alla tua grande mamma, grande donna, grande amica, per voi, per le altre e per me è qualcosa in più. Posso gridare, sei fiera della mamma che sei e i tuoi figli ne saranno la dimostrazione. Quindi, amore mio, goditi tutti appieno ogni periodo perché la mia mano non lascerà mai la tua e per te ci sarò sempre. Affronta il tutto con il petto in fuori e a testa alta, non temere nessuno e sappi che qualsiasi decisione prendere nella tua vita, giusto o sbagliata, bello o brutta, io sarò dietro di te, pronta a difenderti e non temere, amore, perché non sarò e non sarai mai da sola, perché da lassù ci sarà sempre qualcuno che veglierà su di voi. Questo è per te, piccola, grande donna, da parte di tuoi zii, zii Miriam e Ippo e cuginetti, Vito, Paolo e Alessia. E ovviamente non dimentichiamoci di mamma perché c'è anche il suo zampino, ti amiamo. Vedevate l'ora di scoprire il mio sesso, mamma ti ricordi quando mi accarezzavi la pancia e mi chiamavi? Vedevate l'ora di scoprire il mio sesso, mamma ti ricordi quando mi accarezzavi la pancia e mi accorre, ti senti sono, mi eccorre che non è facile, mi accorre, mi accorre, mi accorre. Grazie a tutti